Che occhio, attento, è brillante, hai visto anche tu, eh peraltro non mi hai detto niente Eh sì, è bene sì, chi l'avrebbe mai detto ma abbiamo deciso di sposarci Eccola, no, non ancora, chi lo sa, magari nel futuro, però per ora no Eh sì, abbiamo, diciamo stiamo chiacchierando, io e Fausto di matrimonio qualche settimana fa E niente, a un certo punto gli ho detto ma cosa ne fai se ci sposassimo davvero? Quindi la proposta l'ho fatta un po' io in realtà, poi lui invece è arrivato con l'anello Sicuramente abbiamo seguito la tradizione classica, diciamo Eh insomma, 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 com'è? Chi lo sa, chi lo sa Eh sì Lo sa Lo sa Lo sa Lo scuseremo? No, diciamo che è tutto molto, come si dice, è stato deciso all'ultimo fondamentalmente Io sono di spirito romantico e quindi ho detto ma si dai, ma adesso non è più, è un momento intenso che ci ritroviamo in gioco e quindi sentivamo anche che deve essere una parte della nostra storia è importante, prima di tutto E quando usciamo da Sanremo, quando diciamo, si placano le acque, decidiamo tutto per bene Per adesso c'è solo la promessa Abbiamo un po' di idee ma non abbiamo ancora deciso dove Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti